Si svolgeranno oggi alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Contursi Terme i funerali di Gennaro Forlenza, ex sindaco DC di Contursi, spentosi ieri mattina ad 84 anni. Forlenza, personaggio di spicco della DC della zona dell'Alto Sele, è stato sindaco di Contursi per 10 anni, dal 1970 al 1975 e dal 1980 al 1985. A lui si deve il titolo di città e la denominazione Contursi Terme. Numerosi i messaggi di Cordoglio, fra cui quello dell'attuale sindaco Alfonso Forlenza. Lungimirante, appassionato, tenace, Gennaro Forlenza è stato colui che ha traghettato Contursi verso il futuro, costruendo con quella locuzione terme aggiunta al nome del paese, forse una delle azioni più concrete che hanno connotato il nostro paese. un nome che era una politica sulla quale si è speso.